L'ultimo premio Allora, questo è un premio speciale e particolare. Io ce l'ho pensato da un po' di tempo, poi confrontandovi con gli altri dirigenti ho scoperto che avevano tutti la stessa idea. Questo è un premio alla carriera passata, presente, ma soprattutto futuro, di uno dei nostri ragazzi che forse è sempre un po' nell'ombra, che è però una colonna del Palamano ed è, oltre a un livello tecnico che è straordinario, è il premio alla persona, è il premio al campione, ha lasciato i dettagli alla nostra squadra e ha fatto che, beh, c'è una bella persona d'info. Io era una volta che l'ho comprato, forse tu se lo ricorda, ma erano tutti i sedi su quella cugina perché io stavo facendo che il Palamano purtroppo stava per chiudere per problemi economici. sono costanti in tre anni a mente, noi siamo ancora qua, lui è ancora qua e lui per la volta non mi ha guardato in faccia per tutto il mio discorso. E io ho pensato, ma guarda questo che non mi guarda neanche in faccia. Poi ho capito perché, perché aveva qualcosa di un cuore che si stava spiegando. Io voglio dare questo premio speciale a Cristi Boro.